Ciao! In questo video parliamo di Regolith che, per una volta, non è una distribuzione o per meglio dire è anche una distribuzione, nel senso che questo software viene integrato in una derivata di Ubuntu per semplificare la sua installazione ai meno pratici. Ma in generale, Regolith può essere aggiunto direttamente su Debian, Ubuntu e relative derivate in modo abbastanza facile, quindi tanto vale partire dall'AppStream e prelevarlo dai repo ufficiali. Ma di che cosa stiamo parlando? Regolith è un ambiente desktop che esegue i3 oppure Sway, cioè due tra i gestori di finestre a piastrelle più popolari, veloci e configurabili, ideali per flussi di lavoro guidati dalla tastiera. In sostanza, Regolith consente di installare ed utilizzare con zero difficoltà i3 oppure Sway su Debian barra Ubuntu e oltretutto aggiunge tutta una serie di componenti come i3Bar, Rowfication, i3Status, RS e Ilya per fornire un'esperienza desktop più completa. Attualmente, l'ultima versione disponibile di Regolith è la 3.1, mentre la 3.2 è in fase di beta. Come anticipato, Regolith supporta sia i3 che Sway, il primo se si utilizza X11, il secondo per Wayland. E, sempre come già riportato, Regolith è compatibile con Ubuntu 20.04, 22.04 e 23.10 oppure scaricando Regolith Linux 2.2 che è una Ubuntu 22.04 con tale DE precaricato e poi con Debian 11 Bullseye, Debian 12 Bookworm e Debian Testing che sarà la futura Debian 13 Trixie. Come si può intuire, Ubuntu 24.04 al momento non è sopportato, ma lo sarà al rilascio di Regolith 3.2. Per semplicità e per mostrare velocemente cos'è Regolith e come funziona, si può partire da Debian 12, attualmente aggiornato alla versione 12.6, e quindi installare il DE come pacchetto di sistema. In questo modo, l'aggiornamento e la rimozione sono più semplici e gestiti direttamente dal gestore dei pacchetti. Per fare ciò occorre prima registrare la chiave pubblica di Regolith su apt, con il classico comando mostrato a video, quindi aggiungere una delle URL dei repository ufficiali di Regolith. È sì perché bisogna scegliere la versione specifica di Regolith da installare, la quale matcha con una specifica repo URL. Se ad esempio si volesse prerevare l'ultima versione stable di Regolith per Debian 12, basterà aggiungere alla basurla del progetto //release-current che punta sempre all'ultima versione stable, oppure //release-3-1 per puntare alla versione precisa. Dopodiché aggiungere //debian-bookworm che è il nome e codice di Debian 12, ed infine //amd64 o //arm64 che sono le due architetture attualmente supportate. Una volta fatto ciò basterà aggiornare apt ed installare Regolith. Anche in questo caso va specificato che cosa installare, se i3 oppure Sway , quale tema, ecc. E per fare ciò basta indicare espressamente i pacchetti da prelevare. Ad esempio, sudo apt-install Regolith-Desktop, Regolith-Session-Flashback, Regolith-Look-La-Sky, dove Regolith-Desktop è il pacchetto base di Regolith, Session-Flashback indica che si vuole i3-X11, e La-Sky è uno dei temi disponibili. Di temi ce ne sono svariati ed una volta applicati possono cambiare non solo lo sfondo e o i colori degli elementi a video, ma anche la posizione di tali elementi oppure altri dettagli. Comunque volendo si possono anche installare tutti i temi disponibili e o installare Sway con il pacchetto Regolith-Session-Sway. Una volta completata l'installazione, sarà sufficiente riavviare il PC e al successivo login selezionare il Regolith come Sessione anziché l'ultima utilizzata in precedenza. E boom, i3-Sway verrà automaticamente avviato e già configurato all'uso. Ma che cosa significa utilizzare un gestore di finestre a piastrelle anziché un ambiente desktop come GNOME, KDE o XFCE? In parte lo abbiamo anche già visto nel recente video su Cosmic di System76 con la versione Alpha di Pop!OS 24.04. Però, in generale, un Tiling Window Manager prevede un'interazione completamente differente con le finestre a video rispetto a quella che si ha tipicamente negli ambienti desktop tradizionali. L'interfaccia predefinita di Regolith è completamente vuota e priva di indicazioni visive su come avviare le applicazioni oppure eseguire qualsiasi altro tipo di operazione. Tuttavia, l'utilizzo di Regolith è relativamente semplice se si memorizzano due combinazioni di tasti fondamentali Super più maiuscolo più punto interrogativo e Super più spazio, dove Super è il tasto della tastiera che solitamente ha il logo di Windows oppure altro simbolo equivalente. Premendo Super più spazio viene avviata una finestra dentro cui digitare il nome di un'applicazione da eseguire o parte di esso, e poi premendo invio tale app verrà avviata. Questa interfaccia, che fa da launcher, è un programma chiamato ILIA ed è suddivisa in un'area nella parte superiore per l'immissione del testo e da un'altra area centrale per la selezione tramite elenco. La stessa interfaccia viene avviata premendo l'altra combinazione di tasti, cioè Super più maiuscolo più punto interrogativo, ma in questo caso, invece che l'elenco di app installate, viene visualizzata la lista di comandi che è possibile eseguire sempre tramite combinazioni di tasti o selezionando la specifica voce e premendo invio. Questa schermata ha lo scopo di rendere facile e veloce la ricerca e l'apprendimento delle varie scorciatoie disponibili in Regolith. Una volta che le applicazioni sono state avviate, esse saranno automaticamente posizionate a video in modo da occupare tutto lo spazio disponibile ridimensionando la propria finestra se c'è necessità di fare posto ad altre app in apertura. Per passare velocemente tra le app in esecuzione, è possibile utilizzare la combinazione Super più Control più Spazio per visualizzare una tendina con tutti i software in esecuzione, quindi selezionare la finestra desiderata ed il sistema si sposterà nell'area di lavoro che la contiene impostando il focus su di essa. Ma è possibile passare tra gli spazi di lavoro anche semplicemente premendo Super più 0, 1, 2 ecc. fino a 9. Se lo spazio non esiste verrà creato automaticamente. Inoltre, gli spazi di lavoro possono essere anche ordinati o semplicemente spostati di posto tramite la combinazione Super più Tab per andare avanti e Super più Shift più Tab per tornare indietro. Anche le applicazioni, chiaramente, possono essere completamente controllate con la tastiera, dalla selezione di quella a fuoco sullo spazio di lavoro attivo al suo ridimensionamento o riposizionamento, oltre che allo spostamento su vari spazi di lavoro. Oltre ad avviare applicazioni, è possibile anche cercare file specifici sul computer premendo Super più Alt più Spazio ed iniziare a digitare. Quindi premere invio su una selezione ed il file verrà automaticamente avviato con la relativa applicazione impostata per l'apertura. Ci sono anche alcune applicazioni come il browser web ed il terminale che hanno scorciatoie preferenziali. Super più invio, ad esempio, fa partire il terminale, Super più Shift più invio fa partire il browser, oppure Super più C avvia la configurazione di sistema ed è possibile gestire le notifiche premendo Super più N. Dopodiché, per chiudere le applicazioni aperte basta usare la combinazione Super più Shift più Q e, se essa non dovesse rispondere, c'è sempre la possibilità di usare la combo Super più Alt più Q che ne forzerà il kill. In precedenza abbiamo parlato di temi. Colori, sfondi, layout di finestre e barre ed altri fattori visivi vengono raggruppati in pacchetti chiamati Look. I Look forniscono un modo semplice per cambiare l'intero aspetto del desktop. Così come altre componenti che possono essere aggiunte o rimosse in Regolith, anche i Look, come abbiamo visto, possono essere aggiunti e rimossi tramite pacchetti da installare e gestire via APT. Una volta installati, premendo Super più Alt più L si aprirà una finestra di dialogo con l'elenco di tutti i temi presenti e semplicemente selezionandoli essi verranno applicati con tutte le modifiche annesse. A parte i temi, anche altre componenti possono essere aggiunte con pacchetti. Regolith fornisce infatti tutta la configurazione di i3-sway tramite Config Partials. I suddetti pacchetti da scaricare da repo installano i vari partials di configurazione i3-sway e quindi, semplicemente aggiungendo o rimuovendoli, la configurazione del gestore di finestre può essere personalizzata con preferenze specifiche. Sul sito ufficiale del progetto è possibile vedere l'elenco completo delle componenti disponibili. E c'è davvero un po' di tutto, dalla scorciatoia per il resize delle finestre agli indicatori sul pannello principale, da utility di varia natura al gestore di notifiche e via discorrendo. Ovviamente l'utente può personalizzare i3-sway direttamente modificando a mano i rispettivi file di configurazione e o può sovrapporre tutte le customizzazioni che preferisce, sempre se sa dove mettere le mani. I tali Windows Manager infatti richiedono la compilazione manuale di tutta una serie di file di configurazione in modo da arrivare alla personalizzazione che più si desidera, donando una libertà incredibile all'utente, il quale però appunto deve sapere quali configurazioni cambiare. Regolith dunque permette di semplificare molte di queste personalizzazioni, fornendo pacchetti custom che ne hanno già disponibili all'interno e che si applicano direttamente post-installazione, trasformando di fatto l'operatività richiesta in una semplice gestione di pacchetti tramite apt, senza comunque togliere la libertà all'utente più smaliziato di fare fine-tuning dove e come più desidera. Tu che ne pensi? Hai mai usato un Tiling Windows Manager? Ha senso Regolith con il suo tentare di semplificare l'installazione e configurazione di i3-sway, quantomeno nel mondo Debian Ubuntu? Ti aspetto nei commenti! Nei prossimi giorni arriveranno nuovi video su altre distribuzioni o altri progetti spiziosi. Se questo ti è piaciuto iscriviti al canale e soprattutto fammi sapere nei commenti se trovi più pratico controllare il computer direttamente da tastiera oppure se prediligi l'interazione con le finestre tramite il mouse. Se hai richieste riguardo altri progetti legati al mondo del pinguino per cui vorresti vedere un video dedicato, non esitare a farmelo sapere con un commento qui sotto. È tutto per questa puntata, a presto!